La Biblioteca della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze Ezio Vanoni ha sede in Roma in via della Luce 35, zona Trastevere. Dal 2008 aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale attraverso il Polo di Biblioteche del Tesoro. Inizialmente venne istituita in via Caviglia a supporto dell'attività didattica per i docenti e i discenti della scuola. Oggi, strutturata all'interno del Centro Ricerche di Documentazione Economica e Finanziaria, è accessibile anche a studenti, dottorandi, ricercatori e professionisti che abbiano l'esigenza di approfondire argomenti in ambito economico tributario. È inoltre di ausilio per la redazione di tesi attraverso ricerche di materiale e compilazioni di bibliografie. Ecco tutti i servizi erogati dalla Biblioteca. Prestito e consultazione, prestito interbibliotecario in tutto il territorio nazionale, document delivery, ricerche, assistenza laureandi e dottorandi, bibliografia. Attualmente le monografie possedute sono 15.000, catalogate col sistema di UI. Incluso il fondo Breccia Fratadocchi di 649 volumi donati dall'omonima biblioteca di proprietà della famiglia. Il numero delle testate di periodici ammonta a 373. Nel 2010 la biblioteca ha aderito alla gestione unificata delle biblioteche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'adozione di un regolamento unico e la creazione di un accesso comune ai cataloghi. Presso la sede di Via Caviglia è infine disponibile una sala dedicata alle collezioni Ocse. Grazie.